Uno degli uomini più continui di questa formazione di Guentina, Esler, è sottoposto a pressione, Bosco, Esler va via in velocità, Bosco lo ferma, l'arbitro Simoni ha ribattuto a palme aperte, Esler fa filtrare la palla, ormai gli sbandamenti di questa squadra bianconera durante tutto l'anno e ha ragione Tacconi quando dice ci distraiamo troppo. L'arbitro non se ne vede, arriva Esler, una volta in anticipo salta un avversario, salta un secondo, fa un lancio lunghissimo, è tornato anche Schillaci, riprende Esler. Dato a Esler, un'altra fin, però ha preferito appoggiare la palla a Esler. dietro fronte anche Esler tira bene, stavolta tira forte.